Dentro per Ronaldinho, nasconde il pallone, Digno, ancora un numero Digno, si mette in cattedra! Moluzeski! Cos'è il pezzato da Sterling? Pinta, rete, di passaggi, mi ha letteralmente ubriacato! Moluzeski, vediamo se va per il traversione, va da solo, palla dentro, per Ronaldo, se la porta su sinistro, Ronaldo! E all'ultimo respiro, pareggia il Sassuolo, con l'ultima occasione, Cristiano Ronaldo! Cristiano prova ad andarsene, l'impalla lo favorisce, Cristiano mette a sedere il portiere! Ronaldo sulla porta, sul sinistro, tiro deboli, poi la palla rimane lì! Alla fuori per Cristiano Ronaldo, adesso Hullit deve cercare Ronaldo, che se ne va! Magia di Ronaldo! Dov'è passato il brasiliano? Mamma mia, ha trovato la buca d'angolo! Lo scambio, con Ronaldinho, che prova a piazzarla! Ronaldinho! Mamma mia! Che numero! Di R9! Parti e Gulli! Mamma mia! Ronaldo il fenomeno! Hullit riesce a girare, c'è calcio! Da posizione impossibile! Segna Ruth Hullit! Palla dentro per Hullit, il d'Hullit caccia a Hullit! All'ultimo respiro! Pallone lunghissimo! Ronaldinho di testa! Non è vero! La palla alzata dentro l'aria, arriva il tiro! Da parte di Ronaldo! Quadrato tutto solo, quadrato nel mezzo per Cristiano! Si gira Cristiano Ronaldo! E ha parato poi Gulli! Il benevento di Dani Fisbulla! È campione della E-Serie A-Team FIFA 21! 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 Grazie a tutti.